La Polizia di Stato disarticola un fortino della droga, arresta un uomo e ne denuncia altri due. Nell'ambito dei mirati e continui servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze estruvacenti, la Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri ha disarticolato un fortino della droga. Il gente della squadra mobile dell'acquastroia di Siracusa nel corso dei suddetti servizi transitando nella zona alta della città notavano un'abitazione dove a protezione della stessa erano stati installati dei cancelli e un sistema di videosorveglianza dell'ingresso del condominio e delle strade perimetrali. Gli operatori di Polizia decidevano di intervenire nel presupposto che l'abitazione potesse essere utilizzata quale centro di attività illecita. Il chiudo degli investigatori non veniva smentito in quanto a seguito della perquisizione effettuata nell'appartamento e in quello limitrofo gli agenti rinvenivano e sequestravano complessivamente 37 confezioni di cocaina, 50 confezioni di asci, 5 bilancine di precisione, materiale per il confezionamento e 100 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. All'interno dell'abitazione erano presenti un uomo di 32 anni, già noto alle forze di Polizia, che è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze estruvacenti e un uomo di 36 anni anche gli è denunciato per la detenzione ai fini di spaccio. Nel medesimo contesto operativo l'arrestato e un terzo uomo di 30 anni sono stati denunciati per apposizione abusiva di cancelli posti nello stabile al fine di controllare chi vi faceva accesso. Infine è stato sequestrato il sistema di videosorveglianza con il quale gli spacciatori controllavano gli accessi al fortino della droga.